Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo per il 2017, importanti prospettive di sviluppo anche per il nuovo anno. Presidente Mattoscio, si chiude una stagione importante per lo scalo aeroportuale della nostra regione. In Dandova ha sottolineato che ci si consolida il secondo posto nel segmento di mercato, secondo solo a Trieste con 670.000 passeggeri. Solo tre anni fa quest'aeroporto aveva meno di 500.000 passeggeri. Un risultato straordinario, ben oltre anche le aspettative, perfettamente in linea con le previsioni del piano industriale. Anche qui chi credeva che il piano industriale fosse fantasioso è smentito dai risultati, dai dati veri storicamente ormai acquisiti. Siamo un aeroporto che è cresciuto anche molto nei collegamenti internazionali e domestici e su questi presupposti si può ben sperare per il nuovo anno. Per la stagione estiva sono previsti nuove destinazioni in direzione di Varsavia e di Malta. Altre destinazioni sono in corso di approfondimento e di definizione a livello internazionale. Poi sono tutte confermate le destinazioni domestiche e in particolare le nuove destinazioni con le isole maggiori, di Sardegna e Sicilia e si consolida ancora la destinazione Torino. Per quanto riguarda il numero dei passeggeri, vi siete prefissati un obiettivo per il prossimo anno? Sì, l'obiettivo del prossimo anno è di superare i 700.000 passeggeri.